Dario Franceschini è uno degli uomini politici più potenti d'Italia, è stato ministro della cultura in diverse stagioni, è stato ministro della cultura nel governo Conte, poi ministro della cultura nel secondo governo Conte e poi è di nuovo ministro della cultura nel governo Mario Draghi. E' un uomo potentissimo Dario Franceschini, è un uomo che sa navigare, sa navigare molto bene e scrive libri, scrive libri proprio come Serafino Massoni. Dario Franceschini scrive libri proprio come Serafino Massoni. Ora vengo a sapere dalla potentissima agenzia ANSA che uno degli ultimi libri di Dario Franceschini è stato pubblicato dalla potente casa editrice milanese, La nave di Teseo era intitolato Disadorna e altre storie, che è una raccolta di racconti pubblicata dalla potente casa editrice della nave di Teseo. Una serie di racconti, c'è scritto qua, che si concentrano sulle stagioni più fragili della vita, senza dubbio le più ricche dell'esistenza, l'infanzia e la vecchiaia. Forse ci dice l'autore, è proprio nelle cose più semplici che si nasconde la semplicità. E vabbè Dario Franceschini, forse è una delle cose più semplici che si nasconde la felicità, ma mica è una cosa tanto semplice essere ministro della cultura. Ora però questa ultima opera del ministro Dario Franceschini, pubblicata dalla nave di Teseo nel 2017, intitolata Disadorna e altre storie, viene pubblicata in lingua francese dalla potente casa editrice Gallimard, Gallimard, Gallimard. Beh, allora io mi faccio avanti, io se la fino massone mi faccio avanti, mi faccio avanti, perché io non sono un potente ministro della cultura, non sono un potente ministro della cultura, e ciò nonostante, benché io non sia un potente ministro della cultura, ho scritto già tante opere, tantissime opere, vedete, tantissime opere, anche se io, Serafino Massoni, non sono un potente ministro della cultura, ho già scritto tante opere, e quest'opera qua, From Matriarchi to Patriarchi, è scritta in lingua inglese, e sta in tutto il mondo, in tutto il mondo, capito Dario Franceschini? Però, relativamente alla potente casa editrice, la nave di Teseo di Milano, che è gestita da Elisabetta Sgarbi, sorella di Vittorio Sgarbi, e c'è da dire che, dentro la casa editrice, la nave di Teseo di Milano, e ci lavora una brava figliola di Dario Franceschini, una brava figliola di Dario Franceschini, che si chiama Caterina Franceschini, quindi, il potente ministro Dario Franceschini è immerso nella cultura, sino al collo, sino al collo, non solo egli è ministro della cultura, ma scrive libri, e c'ha una figliola, che lavora dentro la potente casa editrice milanese, la nave di Teseo, che è gestita, ripeto, da Elisabetta Sgarbi, che è la sorella di Vittorio Sgarbi, io non ce l'ho tali addentellati, non ce l'ho tali addentellati, Dario Franceschini, io non ce l'ho tali addentellati, però insomma, anche senza essere ministro della cultura, ho già fatto i miei passi, ho già fatto i miei passi Dario Franceschini, vedi qua, la lama e la rosa, è pubblicata dalla casa editrice francese, Hachette, nella collana i codici segreti della storia, che ha venduto oltre 50.000 copie, e poi, ripeto, ripetita Juvent, from patriarchi to patriarchi, in lingua inglese, sta in tutto il mondo, in tutto il mondo, molto bene Dario Franceschini, Dio quanto sei potente Dario Franceschini, sei ministro della cultura, scrivi libri, e inoltre la tua brava figliola Caterina Franceschini, lavora dentro, dentro la potente casa editrice, la nave di Teseo, di Milano, e la potente casa editrice, la nave di Teseo, di Milano, dove lavora la tua figliola Caterina Franceschini, ha pubblicato la tua ultima opera, che ora viene pubblicata da Gallimard, Gallimard, in lingua francese. Ok Dario Franceschini, a te, Dario Franceschini, e a tutti voi cari amici, tanti cari saluti dalla Stipe del Serpente, che è l'ultima opera di Serafino Massoni, l'ultima opera per il momento, perché presto altre opere appariranno, anche se io ho già 81 anni compiuti. Ok cari amici, ok, ok, ok.